Si avvia alla conclusione il pasticcio dell'ex consorzio agrario del porto di Pesaro dopo un anno di cantiere pronto a partire con due torri da 80 appartamenti molti dei quali già promessi alla vendita ma la cui costruzione fu bloccata sul nascere da un cortocircuito burocratico e regolamentare che ha dapprima generato un incidente probatorio con rinviaggiudizio di tre persone per abuso edilizio salvo poi recuperare un faticoso semaforo verde ai lavori generato da una sentenza del tar delle Marche di qualche settimana fa alla quale ha obbedito il consiglio comunale di ieri. Consiglio che ha approvato all'unanimità la delibera che ottempera la sentenza del tar emessa per il ricorso presentato dalla società Nova Portum per accertare l'illegittimità del silenzio del comune sull'istanza presentata e con cui ha posto due richieste ovvero l'atto di interpretazione autentica in ordine alla vigenza del PRG 1990 nell'area portuale e l'atto urbanistico di correzione materiale consistente nella cancellazione di un comma che il comune aveva già manifestato che si trattasse di un errore materiale come spiegato dall'assessora alla rapidità Mila della Dora supportata dall'ingegner Moretti del comune. Questa parte di questo comma come ho ribadito anche prima è frutto di un errore materiale che consiste nel mancato stralcio dello stesso paragrafo per mera dimenticanza a seguito dell'integrale recepimento in merito alle prescrizioni che erano state a suo tempo impartite dalla provincia di Pesaro Urbino. Motivo per cui questa modifica, questa variante non necessita dell'acquisizione dei pareri dei nulla osta delle autorizzazioni da parte di tutti gli enti coinvolti in quanto i pareri erano stati già richiesti all'epoca quando era stata stralciato diciamo tutto quello che era la parte del progetto a norma del piano regolatore. E dunque corretta l'anomania dalla quale partorì la segnalazione della Capitaneria di Porto che aprì l'inchiesta sulla base di dubbi di edificabilità residenziale di uno stabile non destinato a fini strettamente connessi all'attività portuale. Il tutto risolto dalla semplice cancellazione di un rifuso del PRG approvato con 29 voti favorevoli escluso il consigliere dall'asta da sempre contrario all'edificazione in quell'area. Altri consiglieri di minoranza da Michele Redaella, Giulia Marchionni, da Daniele Malandrino a Roberto Biagiotti hanno sottolineato la responsabilità politica in una vicenda che andava risolta in tempi molto più celeri e con danni ben più contenuti oltre a sottolineare il forte stato di incertezza che continua ad alleggiare su queste procedure amministrative.